Allora siamo al terzo tempo, terzo tempo dopo questa partita insomma non c'è stata tanta storia però insomma una partita strana Eravamo senza cambi, loro sono bravi, va bene così, ci siamo divertiti La partita comunque abbastanza impegnativa per voi ma la squadra avversaria era più in palla bisogna dirlo Sì, erano giovani, noi siamo vecchiotti Va bene, quello conta anche però ci sono anche giovanissimi Thomas, non ti è tornato proprio tutta la perfezione stasera? No, oggi no Quindi ti siete mangiati qualche gol, anche te? Hai fatto gol Marco, che partita è stata questa per te? Bello L'importante poi alla fine è divertirsi Caffiero, bentornato a Pallacentro Che ambiente hai ritrovato in Pallacentro? No, una bella partita tra amici, è sempre un benvenuto da te Quindi ecco, diciamo il clima, l'atmosfera che hai trovato Ottimo, ottimo ambiente Bene, questo ci fa veramente piacere Bene, bene, questo ci fa piacere Allora, Messina, hai fatto anche una magia di qualche gol? C'è il portiere qui accanto No, no, non parla di gol perché stasera non era un forma Stasera non vale nulla Però l'ha fatto bello, bisogna dire Stasera non vale niente Stasera non vale niente Non vale niente Allora, sono annullati i tuoi gol Sì Bene, va bene così Conviene Giacomo, la mossa tattica alla fine? È così Tanto per sudare un po' Però ha portato un risultato Ha portato un secondo gol, dai Aspettate ragazzi Bene, Luca Con la febbre si va Luca, ti sei tolto la maglia Per quale motivo? Perché io sono nero azzurro Nero azzurro Più nero che azzurro Come Asse Più nero che azzurro Che poi alla fine sono più neri loro di me Leonardo Stasera si è divertito Si migliora sul fiasco E infatti io ho detto Ma Arneagora doveva essere un po' Un mezzo cadavere C'è ancora di giocare dopo domani Va bene Comunque si vede come sta arrivando dopo domani Beh, il calcio a otto domani Quindi è importante Massimo, questi ragazzi stanno veramente Danno tutto Io come misto Sono passato dalla povertà alla ricchezza Ieri sera con la massima curvatura Eravamo solo quattro Senza Stasera non saperemo più nemmeno Volevamo a ruotarli Perché erano troppi Quindi vabbè Però vabbè L'importante è che ci siano tutti Poi abbiamo fatto anche lo spot Figuriamoci È vero Se l'ha fatto Omar Nella cattipoia Bene Questo ci fa piacere Bravi ragazzi E complimenti Bravi Bravi Qui sono anche i bambini in campo Li salutiamo Sì Come ti chiami? Antonio Antonio e? Virginia E Virginia Bravi Bravi Babbo ha giocato bene oggi Sì Bene Bravi Grazie ragazzi Ciao a tutti Buona serata Ti saluto davvero Ciao Alla prossima